Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di questa sera andiamo a vedere il miglior mobile wallet multi currency, quindi che permette di stoccare qualsiasi o quasi tipo di criptovaluta in circolazione e non è niente po' di meno che Trust Wallet che è stato acquisito recentemente da Binance. è un wallet che ci permette di avere pieno possesso delle nostre chiavi private, contiene lo standard che permette di fare il backup di tutti i wallet in una volta con il seed di 12 parole, di importare tutti gli altri wallet che abbiamo in giro con vari metodi, insomma anche lì chiave privata, seed, keystore file e quant'altro. e inoltre permette di interagire con le applicazioni decentralizzate nonché depths in maniera veramente semplice grazie al browser integrato che contiene. Quindi andiamo a vedere come lo si usa, come si muovono i primi passi nell'installazione e nella creazione del proprio primo wallet, come si utilizza appunto il browser delle depths di quello che viene chiamato Web3 e andiamo a muovere per l'appunto i primi passi. Vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti cortesemente lasciatemi un like a questo video che a me fa tantissimo piacere vederli apprezzati i miei contenuti e mi incentiva a continuare a produrne. Iscrivetevi mi raccomando al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre sul pezzo, sempre aggiornati appena escono i miei nuovi video che ce n'è sempre tanti in programma e se volete sostenermi lo potete fare o scaricando il browser Brave che trovate nel primo commento con il mio referral link naturalmente oppure donandomi qualche bat sempre tramite il browser Brave che ha un ecosistema che sto iniziando ad apprezzare veramente veramente tanto. Basta con le chiacchiere andiamo a vedere il Trust Wallet. Trust Wallet nasce come mobile wallet quindi come wallet per l'appunto da mobile device che può essere telefono cellulare piuttosto che tablet e per questo motivo nasce come applicazione scaricabile naturalmente dall'App Store piuttosto che da Google Play oppure si può scaricare anche l'APK se siamo in ambiente Android. Tuttavia non è soltanto un mobile wallet perché si presenta come vero e proprio gateway al Web3, al cosiddetto Web3. Che cosa si intende per Web3? Si intende quel web per l'appunto, quel internet popolato di dApps, di applicazioni decentralizzate. Non so se ne avete mai provato qualcuna, utilizzata qualcuna, attualmente ce n'è abbastanza pochi. A dire la verità è soprattutto di utili, forse si contano davvero sulle dita di una mano. Fatto sta che, naturalmente, chi ha la visione della tokenizzazione delle criptovalute come nuovo sistema economico e tutto il potenziale che c'è dietro sicuramente avrà anche la visione del nuovo web come web decentralizzato e quindi Web3 popolato da dApps. In questo senso si prevede una forte crescita del numero di dApps e della loro utilità in particolare. Tra l'altro, faccio un piccolo inciso, non so se vi ricordate le prime applicazioni dell'iPhone che anche quelle erano abbastanza inutili e poi, ovviamente, nel tempo si è andati verso una sempre maggior utilità. Non so se vi ricordate il finto rasoio, piuttosto che, insomma, quell'applicazione che facevi finta di avere la pistola e toccavi lo schermo e sparava, ecco sì. Una buona analogia, secondo me, è quella. Attualmente le dApps sono un po' in questo stadio. Ci sono alcuni giochini carini, ad esempio, avevamo parlato di Megacriptopolis un po' di tempo fa, piuttosto che su Ethereum, ci sono alcuni giochi di carte dove le carte stesse sono tokenizzate, hanno anche un valore, un mercato, insomma. Qualcosa c'è, però siamo ben lontani, me ne rendo conto da un'adozione di massa e una reale utilità. Però ci si sta lavorando. Per questo piattaforme come Trust Wallet sono destinate poi a nascere e a diffondersi nel tempo, perché serve rendere user-friendly la possibilità di accedere, appunto, a questo Web3. Quindi abbiamo capito che Trust Wallet si va a posizionare esattamente qua. È un wallet mobile cold wallet, attenzione, perché le chiavi private sono stoccate localmente sul proprio dispositivo, il che significa che da un lato non sono in cloud, non sono condivise in nessun modo, però dall'altro che occorre prestare massima attenzione, massima sicurezza al proteggere appunto il proprio dispositivo, perché i mobile devices sono tra i dispositivi più facilmente attaccabili e penetrabili da malware e, insomma, software malevoli vari, e pertanto, attenzione, perché il rischio c'è di far finire in mani malevole le proprie chiavi private. Quindi, mi raccomando, la sicurezza è sempre il primo fattore da considerare, soprattutto appunto sui mobile wallets. È stato acquisito recentemente, cioè recentemente no, un annetto fa circa, mi pare, una decina di mesi fa, da Binance, perché è stato sviluppato da terze parti, ma poi Binance l'ha visto, ne ha visto potenzialità e l'ha voluto acquisire, in vista in particolare del lancio del Binance DEX, che è appunto un exchange ibrido, in realtà non proprio decentralizzato, che permette però di eseguire i trades direttamente dal proprio wallet, il che significa che non è più necessario inviare i fondi ai wallet di Binance, come invece è necessario attualmente con l'exchange centralizzato classico che utilizziamo, penso, tutti quanti, ma ci permette appunto di mantenere il pieno controllo sui nostri fondi. Il Trust Wallet si integrerà una volta che il Binance DEX andrà in mainnet, sulla Binance Chain non più di prova come attualmente è, ma la mainnet per l'appunto, e ci permetterà di fare trading direttamente dall'app in maniera molto molto comoda, senza dover muovere per l'appunto i fondi. Questa è una breve presentazione, adesso vi mostro l'applicazione a tutti gli effetti, quindi la andiamo ad aprire, andiamo a smanettarci un po' a vedere cosa si può fare, e un piccolo tutorial su come creare il proprio primo wallet su questa app, che vi consiglio fortemente tra l'altro, perché è davvero comoda, intuitiva e fermo restando che manteniamo la massima sicurezza, quindi l'ideale sarebbe installarla su un device che non abbiamo mai connesso alla rete, se non nell'estrema necessità, e ovviamente del quale teniamo un backup tramite il SID che poi vi faccio vedere, e quindi fermo restando che abbiamo massima sicurezza, è davvero davvero pratica e comoda per chi cerca appunto un mobile wallet, credo che sia il miglior in assoluto. Andiamo a vedere un po' l'app com'è fatta, per scaricarla e installarla, ovviamente ve l'ho detto, è sufficiente andare sull'app store del vostro sistema operativo, del vostro device, e una volta lì la scaricate, la installate e ve la aprite, vi trovate davanti questa schermata, la metto al centro, così si vede un po' meglio, allora perdonate il fatto che è una registrazione, nella registrazione ho fatto un po' di magheggi per riuscire a ottenere l'inquadratura dello schermo, però vabbè. Allora si presenta in realtà non così, perché qua è quando abbiamo già un wallet, se volessimo andare a creare un nuovo wallet, nelle impostazioni vedete che si può scegliere il wallet da creare, nelle varie, scusate, da utilizzare, oppure crearne altri, vedete che si può aggiungere col più un nuovo wallet. Se noi non avessimo mai creato nessun wallet, la prima cosa che ci verrebbe richiesta sarebbe proprio la creazione naturalmente di un wallet, oppure l'importazione del medesimo da un altro, insomma, tramite appunto il seed di 12 parole. Tra poco capirete meglio cosa intendo per seed di 12 parole, se già non lo conoscete. Se creiamo un nuovo wallet, come vedete ci viene presentata questa interfaccia, che ci spiega come è privato, è multi-chain, perché non tiene solo, abbiamo parlato di Binance Dex, abbiamo parlato di Depps, però non è che puoi stoccare soltanto Ethereum, tokeni R-C20, piuttosto che Binance Coin, no, ci sono diverse chains, e tra poco le vediamo, insomma, diverse coins anche non afferenti a queste stesse chain. Quindi, come vedete, qua mi dice, crea un nuovo wallet oppure ho già un wallet. Non abbiamo neanche visto tutte quante le funzioni, però vabbè, ci presenta quello che vi ho detto poco fa io. Se facciamo, ho già un wallet, mi chiede, ecco, l'importazione, perché semplicemente se io volessi importare un wallet Ethereum, ad esempio, io supponiamo che ho creato un wallet Ethereum su MyEtherWallet, oppure su Exodus, oppure altrove, insomma, seleziono Ethereum, e qua posso scegliere, vedete, come importarlo. Quindi, con la frase di backup, ovvero il seed, con il keystore file, con la chiave privata, oppure indirizzo, che in realtà, ecco, è solo in sola lettura, chiaramente, perché dall'indirizzo e basta, non si può importare nulla. Quindi, se io ho la mia chiave privata, presa magari appunto da MyEtherWallet, la incollo qua sopra, e lui, bam, mi importa direttamente il mio wallet, qua sopra, molto comodo. La frase di backup, altro non è che, come vi dicevo, il seed, che può essere, a seconda dello standard applicato, di 12 o 24 parole. Vi ricordo che il seed, appunto, sono delle parole, in un certo ordine, che vanno memorizzate e scritte su carta, su un supporto freddo, quindi non online, non su dati, per mantenerne il backup, per l'appunto, per sicurezza, e che ci permettono anche di ripristinare i multi-wallet, perché multi-wallet, ormai, scusate il gioco di parole, implementano questo standard, che praticamente prevede la creazione delle chiavi private ad albero, una creazione ad albero, che viene derivato proprio, secondo certi algoritmi di criptografia, dalle parole del seed, che appunto, come è il seme, proprio nel senso stretto della parola, di questo albero. E, in questa maniera, vengono derivate tutte le chiavi private, di tutti i wallet, collegati a questo seed. In questa maniera, conoscendo soltanto il seed, è possibile derivare tutte le chiavi private, e di conseguenza, muovere i fondi, autorizzare l'utilizzo dei fondi, di tutti i wallet collegati a questi ultimi. È uno standard veramente, veramente comodo. Andiamo a vedere adesso, invece, la creazione di un nuovo wallet, supponendo di voler partire da zero. Crea un nuovo wallet. Allora, ovviamente, mi chiede di fare il backup. Ho capito che devo farlo assolutamente, e la prima cosa che mi dà, è proprio il mio seed. Ok? Quindi, voi adesso state vedendo questo seed di 12 parole, significa che potreste avere accesso al mio wallet che sto per creare, perché questo seed permette a chiunque, attenzione, infatti c'è scritto qua sotto, di non condividerlo mai con nessuno, permette a chiunque di accedere al wallet che sto creando. È una chiave di backup a tutti gli effetti. Quindi, ovviamente non depositerò nulla su questo wallet, quindi non scomodatevi neanche andare a guardare, però devo scrivermeli, se fosse un wallet reale che mi sto creando, me li devo scrivere su carta, magari salvare in più copie in posti diversi, e poi fare continua una volta che li ho scritti, trascritti. Per sicurezza qua me li fa verificare, vedete, mi chiede di metterli nell'ordine corretto, quindi, insomma, dovrò prendere il foglietto che mi sono scritto e rimetterli nell'ordine corretto. Una volta fatto, cosa che adesso non starò a fare, ecco, adesso non mi fa più tornare indietro, devo chillare l'applicazione, vado a finire qui, quindi sul wallet vuoto. Non ci sarà Callisto che l'ho aggiunto io per fare una prova, facciamo disattiva, così, ecco, vi troverete così, con Ethereum e Bitcoin all'inizio. Il controvalore, si può scegliere dalle impostazioni, se metterlo in euro, dollari, sterlina, rublo, a tutte le valute del mondo, credo. Cos'altro si può scegliere dalle impostazioni? Se ricevere le notifiche push, sì oppure no, codice d'accesso oppure Face ID, che ci permette di bloccare con un PIN, oppure con il Face ID, nel mio caso, da iPhone, il nostro wallet, quindi è una sorta di sicurezza ulteriore. Browser DEP, ci permette di abilitarlo oppure no, e di scegliere il motore di ricerca, e di cancellare la cache. Transazioni ci fa scegliere, se vogliamo, le transazioni più veloci, che ovviamente paghiamo un po' più di fees, più economiche, quindi più lente, meno fees, oppure regolare, che ha una via di mezzo. Questo è un default, che viene applicato poi a tutti quanti i movimenti, che facciamo sul nostro wallet, da qua in poi. Sotto c'è un po' di spam, per unirvi alle community di Trust Wallet, centro assistenza, condividi, di sviluppatore, bla bla bla. Quindi, l'altra cosa importante, ovviamente, è che da qua, posso andare a scegliermi, il quale wallet utilizzare. Wallet principale 1, immagino che sia quello che ho creato poco fa. Vedete, cliccando informazioni, posso vedere la frase di backup, che ovviamente è quella stessa di prima. e posso anche vedere le chiavi pubbliche, vedete, che altro non sono, che delle chiavi pubbliche in una criptografia particolare, che ovviamente non è l'address, ma è appunto la chiave pubblica. L'address è derivato poi dalla chiave pubblica, è la public key. Quindi, basta, questo è quanto. Da qua si possono gestire i vari wallet. Si possono anche eliminare, vedete, così, sei sicuro di voler eliminare? Sì. E poi lo posso reimportare quando voglio, chiaramente tramite la frase di backup, il seed, che abbiamo visto poc'anzi. Ora andiamo a vedere un po' come si presenta il wallet, come gestirlo. È veramente semplice. La parte wallet è divisa in due, vedete, tokens e collectibles. Tokens sono i tokens e le coin, in verità, ovvero Bitcoin, Ethereum, ma poi possiamo andare a fare una ricerca per aggiungerli. Vedete, abbiamo Litecoin, Dash, Ethereum Classic, Icon, Zcash, quindi vedete, non solo tokens, come vi dicevo, ma anche altre coins a tutti gli effetti. Se io clicco il più, me lo va ad aggiungere, guardate, ce ne sono veramente tante. Poi, se io faccio cerca, ovviamente, posso andarne a cercare altri, quindi, che ne so, MKR, Maker, eccolo qua, IRC20, lo aggiungo, tac, fatto. Vedete, è veramente semplice. c'è il database di tokens e coins gestibili, è veramente, veramente ampio. Non per tutti c'è il controvalore aggiornato in tempo reale, mi pare, adesso vediamo, proviamo ad aggiornare qui e vedere che cosa mi dice, ma questo dato è presente per la stragrande maggioranza dei tokens, penso per i quali, i quali abbiano un mercato sufficientemente liquido, ok? Quindi, questa è la panoramica della parte tokens e coins. Poi dopo andiamo a vedere uno a uno i tokens. Collectibles, in realtà, non ho niente da farvi vedere, perché per i collectibles, anche se a giorno è sempre triste, lo scudino di Trust Wallet, perché sono quei non fungible tokens, fondamentalmente, che si possono acquisire e gestire tramite le dApps. Vi faccio sempre un esempio legato al, che ne so, il gioco di carte su Ethereum, di cui non mi ricordo il nome, adesso mi verrà in mente magari. Acquisto, cioè trovo, pesco dal mazzo di carte, non so come funziona, prendo la bustina di carte, ci trovo dentro questa, questa, quell'altra, per dimostrare che sono mie, io avrò i non fungible tokens di quelle carte lì, quindi ogni carta rappresenterà un token singolo, e tutti questi me li troverò esattamente qua dentro, nella sezione collectibles, in Mega Cryptopolis, visto che ne abbiamo parlato, si possono acquistare i pezzettini di terra, e me li troverò qua dentro, i non fungible tokens, equivalenti proprio ai pezzettini di terra, di Mega Cryptopolis, e quant'altro. Io non ho nulla, anche perché, non ho collegato ancora nessuna DEP qua sopra, e pertanto è vuoto. Torniamo invece ai nostri tokens, come si fa a trasferire? Beh, è veramente semplice, allora innanzitutto, posso fare la ricerca, se qua avessi un'infinità nella mia lista, posso andare a cercare qua, e me lo trovo. Per andare a vedere i dettagli di uno di questi token, lo seleziono, vedete, mi fa vedere qua sotto, dove c'è lo scudino triste, le transazioni, che io attualmente non ne ho. L'indirizzo, quindi l'address, non public key, attenzione, l'address, e che posso copiare, vedete, toccando questo simbolino in fondo, questo, per intenderci, ogni tanto muovo il mouse qua sopra, mi compare, ve l'ho detto, la registrazione nella registrazione, ma non fateci caso. Mi dice lo standard qua, quindi IRC20, inviare e ricevuto, è una traduzione un po' Google Translate, di send e receive, quindi inviare per inviare, chiaramente, e posso andare a vedere dove inviarlo, vedete che posso anche abilitare l'accesso alla telecamera, fotocamera, in realtà, cliccando su di noi, che ha un'altra traduzione, penso abbastanza maccheronica, ma vedete che mi, ok, toccati l'accesso, torniamo a trust, e ethereum, inviare, andiamo a le, per leggere i QR code, vedete, tac, quindi io potrei scansionare i QR code del destinatario, quantità me la scrivo qua dentro, massimo ovviamente mi precompila con il massimo, successivo, poi invece mi chiede la conferma, e parte la transazione, viene generata la transazione, ricevuto, che sta per receive, quindi ricevi in realtà, mi mostra il mio QR code, il mio address, quindi io mostro questo address, a chi lo deve inquadrare, e via, che mi arriva la mia transazione, molto molto semplice, qua sotto c'è anche il, il mio address, che è trascritto, che posso copiare, cliccando qua, e poi andare a incollare, laddove voglio fare la transazione, ok? Questo tastino qua, mi permette di andare a inviare il, insomma, l'indirizzo, i dati che sto gestendo, ad altre applicazioni, per permetterne l'eventuale integrazione, questo è quanto per la gestione, delle transazioni e dei movimenti, è molto semplice, seleziono l'asset, invio e ricevo, e ho il mio QR code, oppure la fotocamera, per leggere il QR code del destinatario, molto molto easy, e poi ovviamente, se ho impostato, dei parametri di sicurezza ulteriori, quali il Face ID, mi chiederà il Face ID, come conferma di invio, della transazione stessa, Depps, è un'altra parte interessante, allora, Depps, vedete, mi integra, il cosiddetto Depp Store, che in realtà non è uno store, perché non sono a pagamento, queste Depps, ma è un browser, a tutti gli effetti, un browser basato su Google, come abbiamo scelto dalle impostazioni, e ci permette, vedete, di navigare tra le Depps, per categorie, quindi abbiamo preferiti, in alto, che ho messo Bounty 0x, che ve la faccio vedere così giusto, per panoramica, New Depps, Popular, Exchanges, Thunder Core Games, sarà, immagino, Games, Marketplaces, Social, Utility, Staking, insomma, c'è di tutto e di più, anche Spank, quella di Spank Chain, c'è veramente di tutto, allora, andiamo a vederne una, ve l'ho detto, ho preso Bounty 0x, perché sono registrato, insomma, è una piattaforma, che prevede, il cosiddetto, Bounty Hunting, che altro non è, che il, fare il cacciatore di taglie, che ne so, pubblicizzare una coin, e loro in cambio, ti danno i loro token, sono quelle Bounties, no, di marketing, che vengono organizzate, dalle coins stesse, per l'appunto, e, come si fa? beh, è semplice, perché vedete, utilizzando questo browser, ci si integra, direttamente, con l'app, Bounty 0x, e, in maniera molto, molto semplice, selezionando la Bounty, facendo tutto quanto, e poi, quando si riceve, il premio, lo si riceve, direttamente, sul Trust Wallet, e questa è la comodità, dell'avere, questo, Dapps browser, integrato, questo vale, naturalmente, non soltanto, con Bounty 0x, ma con tutte quante, le altre Dapps, che ne so, Kyber Network, che è un exchange, decentralizzato, un provider di liquidità, decentralizzato, io voglio, swappare, o trasferire token, solitamente, swappare, che ha più senso, utilizzando Kyber, inserisco la quantità, e quant'altro, e swappo direttamente, dal mio Trust Wallet, quindi, sì, c'è l'integrazione, ecco, questi sono i nostri amici, cripto investitore, di Discord, e, praticamente, riesco a swappare, direttamente, dalla Dapp, ok, senza dover fare login, né niente, è veramente, veramente comodo, questo, per quanto riguarda, il Dapps browser, quindi, capite che, di potenzialità, ce n'è tanta, la semplicità d'uso, c'è, e, inoltre, insomma, con il crescere, degli use cases, delle Dapps, e del Web3, credo che piattaforme, come queste, appunto, si moltiplicheranno, e, visto che questa, ha l'endorsement, di niente po' di meno, che Binance, penso che sia, una buona garanzia, di, come si dice, di, qualità, sicurezza, e, insomma, tutti quei valori, che Binance ha, quindi, io, ve la consiglio, assolutamente, avete domande, fatemelo sapere, insomma, ditemi la vostra, e, io sono qua, che vi ascolto, e leggo i vostri commenti, l'avete mai provata, l'avete mai usata, la userete, insomma, ditemelo, commentate qualcosina, ditemi quello che vi viene in mente, su questo wallet, ragazzi, detto questo, vi saluto, e ci vediamo, alla prossima, e ci vediamo,